Cina, 16 anni, ma ci rendiamo conto, raccattata alle ferrovie a Livorno, la buttarono fuori da questi qualche delinquente alla stazione ferroviaria. La presi io, la portai con noi in montagna a Cecchetto, ne avevamo un altro che aveva fatto la stessa storia, avevano lì le buttarono fuori di casa mentre nevicava, qualche figlio di puttana, ecco, e ora ce l'abbiamo tutti e due da 15 anni, il maschio specialmente è fantastico, lei è un po' più malandata, però tutto sommato, stop.